musica ma ho preso un cappello che avevo in casa, quelli semplici con la visiera ho montato, ho cucito sotto questa calza che è un collant poi gli occhi li ho fatti con il cartone il becco stessa cosa, sempre con il cartone ho preso il fil di ferro per fare le forme delle piume e della stoffa cucita, stoffa arancione cucita per fare le piume la scelta del colore? la scelta del colore è quella dell'uccello è un pupa il capo degli uccelli che devi tottoi totobrix totobrix tiglio 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 No, non era quello, dipende dalla dimensione del triangolo. O, i aminti suzike, trecusi via che clavottes, o così da un cuore sasso, che corne ansi di clepperti. Per di stagliare, colpiti, che tappi a capire spera, che era spene l'opso ritroppo, di stagliare, 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 stagliare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.